I rinforzi saranno qui prima del maestro. Metteremo dei tiratori. Le istruzioni sono qui. Seguile. Dobbiamo andare con loro? Con le guardie scelte del capo. Se la caveranno da soli. Forse hai ragione. Meglio che mi trovi un nascondiglio prima che arrivino tutti. Voglio più uomini su quei muri. Controllate che le porte siano chiuse. Il maestro ha dato istruzioni e le seguiremo alla lettera. Qui il piano di Lafreniere è spiegato nei dettagli. Non potrebbero renderci la vita più facile. È spiegato tutto nel piano. È mio. Basta seguirli. Le modifiche vanno apportate prima che arrivi il maestro. Se le misure di sicurezza non sono fronte, il maestro ci ucciderà. Ci sono nemici ovunque. Controlliamo la zona. Cosa succede? Alcuni guardiani hanno sentito un po' troppe cose. Si nascondono nelle catacombe. E devono pensarci le guardie del capo a stanarli? Mi pare eccessivo. I bastardi resistono. Sono come zecchi. Sarà meglio farli fuori prima che arrivi il gran maestro. Non voglio che rischi. Benvenuto, Toma... Oh, traditore! Te ne morisco! Prendete la strada! Oh, se ne morisco! Prendete la strada! Per Dio, fai meglio ad andartene! Scusa, l'ultimo ci è toccato il tutelato! Dirai le tue ultime preghiere! Cosa succede? Mi raccoglio a te, lo cerri! Ti uccido! Arrivi proprio al momento giusto, ad uno gli altri e teniamo la posizione. Ti copro io una fuga se serve. Ci sono nemici ovunque, controlliamo la zona. No, no, no! Il maestro ha ordinato di raddoppiare le guardie là! Hai spiegato tutto nel piano. Basta seguirli! No, 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 no! No, 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 no! Ah, il diavolo, meglio controllare. No, non si perde! Merda! Oppure giurerei che... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I nemici credono che rubandoci le armi ci cederanno nel potere, ma i seguaci della verità non vacillano mai. Ognuno... State pronti, fratelli. Stanotte la verità è con noi. Grazie a tutti. È tutto a posto? Sì, signor Duccio. Gli uomini sono pronti. Quei rasterti non ci sfuggire. Bene. Il nemico non ci ostacolerà mai più. Certo, Mestre. Hai trovato qualche realista? Alzati, fratello mio. Mirabeau è un bravo uomo. Un uomo, un uomo o un estro? Mirabeau è un povero ubriacone illuso. Non dimenticare chi è il Gran Maestro qui, la Freniere. Portatela al Gran Maestro della Serra subito. Consegnatela a lui in persona. Sì, maestro. Maestro, c'è un problema. Christophe ha passato informazioni ai nostri nemici. Ormai questo posto è compromesso. Dovremmo accelerare i teppi. Chiama gli uomini. Colpiremo l'hotel de Bovesta Norte. Poderato di merda! Torna qui e combatti! Preso! Non ti farai scappare! Non ti farai scappare! Non ti farai scappare! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto aggiornato. Fanne buon uso. A più tardi.